Ciao ragazze, riaccomi qua! Questo nuovo video, ho pensato di fare un video, visto che l'altro un po' di tempo fa sulla mia pagina Facebook ho chiesto alle persone che ovviamente mi hanno come amica su Facebook che video sarebbe piaciuto di più e mi è stato risposto un video da matrimonio ovviamente io intendo il video per quanto riguarda l'invitata, non per quanto riguarda la sposa penso che sia uno dei trucchi su cui dovete stare più attente perché deve essere un trucco mirato e deve essere duraturo perché sennò rischiate che a fine serata la mattina siete una cosa e alla fine del matrimonio siete un'altra quindi non è assolutamente bella questa cosa vi consiglio sicuramente di portarvi magari dentro la pochettina qualcosina per il ritocco, soprattutto la cipria o quant'altro perché ovviamente sì, un trucco può essere buono ma non so, magari un ritocco non è male vi consiglio di usare una buona base quindi una buona crema idratante magari una base trucco io ultimamente ho avuto una brutta esperienza con una che mi ha fatto sfociare questo secondo naso insieme ad un'altra cosa e quindi non sono stata a mettere base ho messo solo una buona crema idratante e il fondotinta niente, poi per quanto riguarda i matrimoni penso che cioè perlomeno per quanto mi riguarda poi ditemi anche voi se per voi è la stessa cosa mi piace molto abbinare trucco a vestito quindi se ho un vestito viola un trucco sul viola mi raccomando non vestitevi di bianco porta una sfiga assurda e la sposa si potrebbe anche incavolare con voi quindi evitiamolo poi dopodiché niente mi piace abbinare tutto mi piace magari abbinare il trucco col vestito con lo smalto cioè essere proprio in tinta ditemi voi cosa ne pensate se come me pensate la stessa cosa il trucco è un trucco sul dorato e sul marrone molto carino a mio avviso e ho pensato anche a questa pechinatura un po' strana con tutti i capelli da un lato e appunto un fiorellino qui sul lato e poi andrei ad abbinare degli orecchini abbastanza grossi o magari uno solo uno solo di qua non lo so fatto sa che io matrimoni in giro momentaneamente non ne ho ne ho avuto uno l'anno scorso quindi vabbè mi è venuto in mente così come cosa carina da fare quindi vi lascio al tutorial e un bacione ciao ciao allora abbiamo già applicato il primer potion andiamo a prendere long lasting stick shadows il numero 3 e lo mettiamo nella parte centrale dell'occhio ok solo a metà palpebra poi col dito andiamo un attimino a sfumare prendiamo la naked half baked si chiama ed è questo qui lo prendiamo col pennellino e andiamo a tamponarlo sopra ok a questo punto prendiamo un mix tra questo qui e questo qui facciamo un po' andiamo a mettere all'interno dell'occhio e all'esterno ok adesso con un pennellino da sfumatura andiamo a sfumare ok a questo punto per rintensificare un attimino il dorato vado a riprendermi lo stick della Kiko e vado a ripicchiettare lo sopra in modo tale ad avere il nostro punto luce bello fermo poi prendo un pennello da colore in crema praticamente e vado un pochino a mischiarli un pennellino vado a prendere questo colore qui faccio un altro mix tra questo e questo che uno è shimmer e l'altro un po' meno vado a metterlo sotto l'arcata a questo punto prendo il mio eyeliner in gel di Kiko Nero il mio pennellino angolato non preoccupatevi se non siete proprio precise perché tanto poi la sfumeremo ok facciamo una riga sotto e anche sopra e anche sotto prendo un pennellino di questo tipo quindi piatto e vado a passarci sopra a passarlo sopra la matita sopra l'eyeliner scusate ok ora passo un goccino di correttore sempre sotto per pulire un attimino dentro l'occhio metto una matita marrone scuro mettino le mie ciglia con uno scovolino prima di andarci a mettere sopra il mascara vado col mascara vogliamo proprio fare un effetto intenso quindi abbondate tranquillamente col mascara la mascara ovviamente sia sopra che sotto ok per quanto riguarda gli occhi abbiamo finito adesso andiamo a prendere un pochino di terra andiamo a fare un po' di contouring a mettere un goccino di illuminante lo sfumo ok lo vado a sfumare adesso prendo la mia cipria cipria ne mettiamo anche un po' di più perché comunque essendo tutto il giorno fuori vogliamo proprio che il trucco resista un attimino di più quindi le possiamo andare a mettere un pochino più del solito ok sulle labbra andiamo a mettere prima una matita per far fissare il tutto meglio questa è di Kikola numero 03 è un nude nude ok sopra vado a mettergli il matitone della pupa che è un gloss fatto a matita ed è il numero 01 che è sempre un nude ok ragazzi il trucco è questo spero vi possa essere stato utile fatemi sapere se lo potreste usare oppure oppure no non vi piace va bene ciao ciao ciao